buongiorno e benvenuti in questa nuova sezione di mini studio biblico dio ti benedica anzi dio ci benedica insieme nello studio della sua santa e divina parola siamo qui per continuare a studiare il libro di giobbe siamo giunti alla fine ovviamente siamo al siamo arrivati al traguardo 42 capitoli che ci hanno trasmesso qualcosa di meraviglioso qualcosa di stupendo e anche questo anche in questo giorno in questo video analizzeremo alcuni aspetti molto interessanti che ci aiuteranno per la nostra crescita perché noi dobbiamo ricordarci sempre che il nostro è un cammino e in questo cammino abbiamo bisogno di crescere giornalmente e come si fa a crescere nella fede studiando e meditando la parola di gesù pregando ogni giorno e stando insieme ai fratelli vivendo la chiesa come una famiglia d'altronde come gesù ci ha trasmesso e insegnato quindi siamo pronti per poter ascoltare la parola del signore prima di farlo vogliamo pregare come ogni volta e chiedere a dio la sua benedizione sulle nostre vite e su questo studio amen signore padre santo ti vogliamo ringraziare ancora una volta per la vita che ci hai concesso in questo giorno e vogliamo dedicarti il nostro cuore vogliamo aprire il nostro cuore e desideriamo ascoltare la tua santa e divina parola desideriamo ascoltare la tua voce signora quindi ti prego parlaci poiché i tuoi servi sono in ascolto abbiamo fame signore quindi ti prego nutrici con lo spirito santo guidaci in questo studio facci comprendere le cose che dobbiamo comprendere benedicici fortifica la nostra fede facci crescere e questo è il nostro desiderio e sappiamo che è anche il tuo desiderio quindi crediamo che questa preghiera sia in perfetto accordo con la tua volontà e ogni cosa noi te la chiediamo nel nome di gesù cristo che con te benedetto in eterno amen gloria a dio allora siamo arrivati al capitolo 42 abbiamo detto e siamo arrivati che job abbiamo visto nel video precedente si era pentito si era veduto ha capito perfettamente chi era dio e chi è lui ha capito aveva fatto degli errori ora ora siamo passati a un'altra fase ossia la fase in cui ora dio ha qualcosa da dire anche agli amici di job amici tra virgolette perché non hanno fatto del bene hanno ma hanno trattato male job hanno detto delle cose che non avrebbero dovuto dire e infatti dio li riprende se hai la tua bibbia aperta leggeremo il versetto 7 del capitolo 42 quindi dio non fece assolutamente dei complimenti agli amici di job che avevano parlato a vanfra anzi li riprende in questi termini dopo che ebbe rivolto questi discorsi a job il signore disse a elifaz di teman la mia ira è accesa contro te e contro i tuoi due amici perché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo job fin qui la parola del signore allora la prima cosa che notiamo in questo versetto è che dio stesso discolpò job riconoscendolo ancora come il suo servo infatti dice perché voi non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo job quindi è un onore è un privilegio e quindi sta discolpando job di tutte le accuse che questi suoi amici avevano fatto nei suoi confronti non mi ripeto l'abbiamo visto già nei video precedenti ma continuavano a ripetergli la stessa cosa ossia che lui aveva peccato c'erano dei peccati nascosti per questo lui stava soffrendo per questo gli erano morti i figli per questo sembrava che gli era piombata addosso una grande maledizione e poi tante altre cose la storia è molto lunga ma si sono ripetuti tanto su questo aspetto che non l'hanno più confortato a job ma lo hanno proprio infastidito perché job secondo la testimonianza di dio stesso all'inizio di questo libro job era un uomo integro era un uomo che temeva dio e fuggeva il male era un uomo che amava il signore era un uomo che era pronto e si dedicava agli altri quindi era un uomo un santo uomo di dio quindi queste queste loro amici hanno parlato veramente a vanfera nei suoi confronti e quindi dice chiamandolo il mio servo lo stanno con dio lo sta completamente discolpando è come se gli stesse dicendo ascoltami per loro tu sei un grande peccatore sei maledetto e quant'altro per me per me dio tu sei ancora il mio servo che il signore possa parlare ai nostri cuori attraverso queste benedette parole amen rivolgendosi agli amici di job invece avvalorò la loro follia e li indusse a compiere un importante sacrificio per ricevere il perdono dei loro peccati dove lo troviamo questo scritto lo troviamo nel versetto 8 se hai la tua bibbia aperta a leggere insieme a me capitolo 42 del libro di job verso 8 dice così ora dunque rivolgendosi agli amici di job ora dunque prendete sette tori e sette montoni andate a trovare il mio servo job e offriteli in olocausto per voi stessi il mio servo job pregherà per voi e io avrò riguardo a lui per punire la vostra follia perché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo job quindi sta dicendo a questi amici sette tori e sette montoni da offrire in sacrificio per il loro peccato non era un'offerta da poco ma era un'offerta significativa importante non era qualcosa dice vabbè un uccellino lo offremmo in sacrificio e abbiamo finito no no era un sacrificio importante quindi dio sta facendo questa richiesta a questi loro amici e ora job in questa occasione stava per imparare un'altra bella lezione non è finita la lezione per job è incredibile doveva pregare per coloro che lo avevano ferito per coloro che lo avevano offeso per coloro che lo avevano accusato ingiustamente tu pensi che sia facile questo non è facile per coloro che ci sono che ci hanno maltrattate non è facile pregare per loro ma cristo gesù nel vangelo di matteo ci dice che dobbiamo farlo guarda cosa dice matteo capitolo 5 versetto 44 pregate per quelli che vi perseguitano chi ti perseguita non è che è una persona che ti vuole bene ti perseguita qualcuno che ti vuole male e lui e gesù dice pregate per coloro che ti perseguitano quindi job doveva imparare doveva esercitare un qualcosa di molto importante sai come si potrebbe chiamare si chiama umiltà c'è job doveva pregare per coloro che lo avevano ferito umiltà ma la cosa bella da notare è che questa umiltà non è solamente di job ti faccio presente che anche gli amici di job per andare da job a chiedergli preghiera hanno dovuto esercitare l'umiltà perché tu mettete nei panni di questi tre amici che hanno parlato male lo hanno offeso lo hanno criticato lo hanno giudicato dio gli sta dicendo ora andate da job andate proprio da lui da colui che voi avete insultato per tanto tempo e ditegli di pregare per voi perché affinché io dio vi possa perdonare non è facile pensaci un attimo non è facile però lo hanno fatto e questo è un buon gesto è un gesto di umiltà gli amici dice il versetto 9 fecero come il signore aveva loro ordinato quale fu il risultato di tutto ciò perché abbiamo detto spesse volte che ogni nostra azione ha dei risultati ha delle conseguenze qual è stata la conseguenza di tutto ciò lo leggiamo nel versetto 10 quando job ebbe pregato per i suoi amici l'eterno dio lo ristabilì nella condizione di prima la ricompensa la benedizione il regalo che dio fa job dio non dio non fraintendetemi dio non deve niente a nessuno non è in debito con nessuno assolutamente ma job fu ricompensato grandemente per la sofferenza che dovette affrontare la preghiera di job per i suoi amici ebbe diede inizio alla ricompensa e se quindi è stato un qualcosa di buono ma da notare un'altra cosa ancora è da notare che job non pregò per loro quando già stava bene non era guarito ancora aveva l'ulcera ancora era tutto che si grattava era era dolorante sofferente ancora aveva tutte le ferite aperte eppure mentre che stava soffrendo per il male fisico che aveva job pregò per i suoi amici l'ultimo punto e chiudiamo quando soffriamo quando l'essere umano in sé per sé soffre noi tendiamo a concentrarci e a chiuderci solo in noi stessi perché pensiamo solo al nostro dolore pensiamo alla nostra sofferenza pensiamo al nostro travaglio e sembra quasi normale farlo ma questo non aiuta ad allevare la sofferenza assolutamente al contrario proprio come fu per job quando stiamo male e cerchiamo di aiutare il prossimo avviene qualcosa di meraviglioso sai cosa succede distogliamo lo sguardo da noi stessi e ci rendiamo conto che ci sono persone attorno a noi che stanno soffrendo più di noi più di noi si aprono i nostri occhi e realizziamo qualcosa di meraviglioso d'altronde gesù disse due cose meravigliose leggo questi due versetti e concludiamo in matteo 7 capitolo 7 versetto 12 sta scritto tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano fatele anche voi a loro cioè lo vedi il pensiero di gesù come tu avresti piacere di ricevere delle telefonate di ricevere una visita di essere detto delle parole buone ti piacerebbe tutto questo gesù sta dicendo dato che ti piace ricevere questo inizia a farlo tu c'è gesù è meraviglioso veramente perché quando inizierai a far questo entrerà in gioco una potenza straordinaria la potenza dello spirito santo e ancora nel libro degli atti capitolo 20 versetto 35 dice sempre gesù che vi è più gioia nel dare che nel ricevere quindi quando noi ci dedichiamo agli altri nonostante stiamo male nonostante non avremmo neanche la forza di dedicarci a qualcuno gesù dice in quel momento io ti manderò una benedizione così grande come fu per giobbe che tu non saprai più neanche dove dove depositarla infatti concludo leggendo questi ultimi versetti del libro di giobbe l'eterno gli rese il doppio il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto il signore benedì gli ultimi anni di giobbe più dei primi ed egli ebbe 14.000 pecore 6.000 cammelli mille paia di buoi e mille asini ebbe pure sette figli e tre figlie in tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di giobbe giobbe dopo questo ascolta bene visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli fino alla quarta generazione perché tutto questo perché giobbe rimase fermo rimase integro nella fede rimase puro davanti a dio e nonostante la sofferenza lui si dedicò ai suoi amici a coloro che lo avevano maltrattato questo permise a dio di elargire una potente benedizione sulla sua vita e la mia domanda e concludo verrebbe spontanea da farti è questa sei pronto sei pronta ad accettare questa sfida perché non è una sfida lanciata da andrea fortezza questa è una sfida lanciata direttamente dallo spirito di dio io sono pronto se tu sei pronto buon lavoro e che dio ti benedica